La transizione ecologica, la sfida di oggi e domani per una città sostenibile. Voglio parlarvi di questo punto fondamentale del mio programma da qui, dal sito che ospita il depuratore di Petrosino, che è simbolo della cattiva politica. Questo depuratore, come la rete fognaria, costruita diversi anni fa e mai messa in funzione, è l'esempio lampante di quella politica che non riesce a guardare al futuro e a far funzionare le cose. Per questo vogliamo ripartire da qui, dal depuratore, dalla rete fognaria, per rendere finalmente a tutti i petrosileni un servizio che è fondamentale. Questo spreco, perché questo è uno spreco, questa è un'opera che è costata tanti anni fa parecchi soldi nostri, non può rimanere in questo Stato. Chi fa politica ha il dovere di affrontare queste problematiche e lo farò e lo faremo. La transizione ecologica è la sfida di oggi, non solo di domani, anzi siamo già indietro e abbiamo oggi finalmente l'opportunità di avere le risorse. Per fare cosa, per far diventare questo territorio un territorio in equilibrio tra la produzione e il consumo. Questo significa non solo avere un territorio ecocompatibile, non solo avere un territorio più pulito da un punto di vista ambientale, ma significa anche abbattere i costi. Far bene all'ambiente significa far bene anche alle nostre tasche. Per questo andremo ad utilizzare i fondi del piano per rendere efficiente da un punto di vista energetico tutta l'illuminazione pubblica del territorio, per rendere efficienti da un punto di vista energetico tutte le infrastrutture pubbliche del territorio. A partire da un municipio che si sta sgretolando, per andare alle scuole dove i pannelli del fotovoltaico sono stati messi vent'anni fa ma non sono mai entrati in funzione. Ecco oggi abbiamo l'opportunità per cambiare finalmente scenario e far diventare questo territorio un modello, un modello in Italia di efficienza energetica. Sulla questione dei rifiuti, un altro capitolo fondamentale. Abbiamo bisogno di far partire una fase 2, una fase in cui i rifiuti da problema possono diventare risorsa. Parlare di politiche ambientali significa parlare di economia, dicevamo, ma significa anche parlare di salute. Per questa ragione uno degli altri punti su cui mi impegnerò è quello di aiutare nello smaltimento dell'amianto e dell'enternit ancora presente nel territorio. Le infrastrutture pubbliche ma anche provando a trovare forme di incentivazione per chi l'amianto e l'eternit ce l'ha ancora nelle proprie case. Su questo ci sono tante risorse europee, l'Europa su questo ci aiuta, su questo anche la nostra assemblea regionale siciliana si sta muovendo e un'altra occasione che non dobbiamo assolutamente perdere.